benvenuti in questo nuovo video su clash royale non so ancora se ti puoi chiamare clash royale perchè è stracambiato o c'è tipo dall'altro ieri uscito perchè ora che giorno è beh ve lo dico oggi oggi è mercoledì alle 3-20 e raga è da tipo due giorni fa preciso ho fatto questo aggiornamento fighissimo raga fighissimo ok doniamo il nostro jambu raga ok ragazzi oggi vorrei fare con voi la sfida touch down touch down scusate raga ok raga il chiedito è moschettieri come sempre ok apriamo questo buon omaggio moschettieri vabbè ok apriamo questo buon omaggio niente di che però fa niente raga fa niente e ragazzi è una figata che si possono con le coronette tipo sbloccare i bauli è una figata grossosa ok oh raga che figo non ho visto che figata che figata ah ragazzi e oggi vorrei anche vorrei anche ok raga aspettate che mi sono confuso ok raga facciamo così guarda vabbè si può togliere che figo oh raga ok c'è il nostro jambu raga c'è il nostro jambu ok jambu aspetta un secondino eh ok ok raga ok raga raga vi giuro non ho programmato niente anche lui adesso sarà online raga vi giuro beh vi manderemo una sfida tacitavano un'altra volta quella nella sfida profondamente raga che figata ora ah no co contro due ho chiesto ah ok va bene non non t'accido siamo contro due con lo stesso nome ok giornata madonna 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 cad지는za madona madonna aромani oh ah ah ooh jambu 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 difendi ah Difendi Vabbè Non so come Ok ok meno male Ok raga ok 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 Eh cavolo Aia 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 Ok raga Rapido qua così E' lo so che non sei amico non è che puoi fare tanto Ma come sta giocando Giampo Perché Raga ora non ci voglio fare io Stavo c'è una po' a ser forza dai non puoi giocare così Ok vado al chiozzo Brava brava Ok Ok perfetto Va bene ci sta raga ci sta Ci sta ci sta Bravo al chiozzo brava 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 Vediamo cosa Buttano vediamo quasi buttano su due Raga sono con uno Perchè non ha Andano sesso Tranno il primo che ha Cr Ok raga ok Ah cavolo male 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 Ok Aiuto Ok Ok Sì 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 Vabbè non ha Due peccano eh Ciao ciao Ok No 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 cosa fa Perchè Giambu No dai Perchè ma dai sto registrando Non puoi fare il cogliere mentre registro Raga abbiamo perso malissimo Perchè Le odio le pubblicità Le odio le pubblicità Ok ragazzi Andiamo Giambu ragazzi Adesso Si appena parlato Mi ha detto che gioca bene Perchè prima Sto facendo un po' il cretino La metto anche lui Va bene ok Ok Bravo cavallino Bravo bravo si cavallino devi correre bravo cavallino aia aia bravo 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 grande 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 ancora grande il nostro jambo ok sarà bello questo pelino viene il principesto nell'inferro buoni bastarda ok ok scheletrini sempre con ti copi perché fanno davvero un male gli scheletrini che era un po davvero le palle non c'era da tutti i segretti ma se ci stava niente ok va bene la busta nota youtube già bu saluta youtube non butterò ecco bello 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 ok va bene domate 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 doma ma è doma ancora 21 un altro no sono finito 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 ok calmi calmi sono calmo raga ve lo dico sono calma giuro giuro sono calmo ok raga io praticamente sto giocando gli scheletrini da uno veleno e sgherri devo un po cambiare ok raga mongolfiera frecce 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 ok provala 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 a fai fa niente anche se non ci dia fa niente basta la bomba o basta la è la bomba per me la bomba oddio si principino ancora il principino non more raga no raga non raga non moriva vabbè ragazzi da notare il principale 6 diciamo raga la unica 6 però tanta roba c'è aia aia fa male 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 bravo martino bravo massimo oddi raga la bomba rolo fa che ora un altro ancora my dio ma è sir ad jour nostra 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 ora io la porto a casa musica e la torre va gių ok perfetto non ma mia Sora mamma Quando si impegna il nostro Giambu cosa fa Ok raga ci partiamo a casa questa partita Ah raga no anche la rinvengita tipo Che figo No raga Raga ma cosa appena visto Ma che figata No raga Ah che figata Che figo ci sono rimasto un po' di merda Perché non lo so perché ho visto tipo Queste strite qua che le stavo volendo dire Mentre in silenzio no perché no Quindi sta principessa Madonna sta principessa Ma davvero così forte Ok no no aspetta Ok Va bene va bene va bene Ok raga faccio così Ok raga così Ok raga perfetto raga difesi alla perfezione Grazie Vai mamma rolo Fallo fuori Grandissimo Grande belle 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 le frecce Bravo bravo Giambu Grande Giambu Ok Ok raga difesa estremo Estremo Ma il principale Ma il principale Ah i scheletrini Fatelo fuori Fortesimi siete voi Fortesimi Ok facciamo fuori Steggi inutili Oh raga Anche i danni Anche i danni Facciamo perfetto Wow 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 Grazie grazie Bella partita Grazie ok Oddio 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 No 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 Vabbè raga però ci ha mancato la valchira Una cosa un po' buona c'è stata raga Ci ha mancato la valchira Ah raga Giovevo dirvi che ho registrato su plasher Perché è appena uscito un nuovo aggiornamento Se no Avrei fatto il nostro head social Ma raga Tranquilla raga Che domani lo farò Tranquilla tranquilla Che lo farò Ok gigante Subito 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 subitissimamente Ok raga Raga i segnalamenti sono arresi Raga ti sono arresi Inchinatevi ai patroni Ecco E' una merda Inchinatevi più forti Jerry e Jabu E dai Cazzo Si cazzo Allora raga volevo dirvi che Shouto e Tommy Tommy farà pochi video Ma Ma Shouto ne farà ancora di meno Però Fa sempre parte del gruppo E infatti faremo tipo video insieme Così Non lo so Un weekend Ok Facciamo un'altra Ma si Facciamo un'altra Giambu E vai te Uh raga C'è anche il nostro Zappino online Ah ma vieni Tanta roba oggi Tanta roba No dai Perché è l'arena 8 Ma che schifo Va bene Lui in suo senso Che forte Non si può dire Che non è forte Costo costa 4.0 Però Tanta roba Ok 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 ragazzi Qua di là No scusa No sbagliato No sbagliato Scusa No cavolo Scusa Sbagliato Scusa Scusa Sculpa mia Mia colpa Mia colpa Vabbè ragazzi Però la venena Ha fatto fuori Il moschettire Ok 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 Vai Barbar Sopra i vieti Barbar Vai Barbarazzi No Quanto cazzo Quanto male fa il domatore Oh ma No Tu devi morire male No no Ragazzi È impossibile E ancora io Ciao Ok Va bene Ci sto Ci sto Brava Chi rozza Brava Vai 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 Fai danno a mini pack Fai danno a mini pack Perfetto 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 Va bene I schiettini Intanto Divuliscono il pack E muore Subito Grazie Ok Va bene Oggi Questa Ovviamente L'ultima partita C'è Massimo 3 o 4 Mentre Quanto vatti 3 l'hanno fatto Non te l'ho fatto Oggi Non mi ricordo Ok Intrattenete Gli sgheri Bravissimi Perfetto Ok Vado io Sì dai Facciamo così Facciamo così Perfetto Aia Se ho una zappa Ci fanno Ecco 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 Aia Aia Ma le male Ma dolore 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 Eh raga Buttigli sgherretti Per forza Ok Fai te Che non c'ho Perfetto Eh raga Questa Non so Se la vinciamo Brava Valkyra Brava Valkyra Brava Valkyriozza Ok Ah brutta Scusa Ho sbagliato Io Aia Cavolo Aia Eh ma No 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 Ma che Stronzo Che stronzo Che stronzo Che stronzo Ok 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 No Ma che non ce la vedo Dove la vedo Dove la vedo Una volta che serve Per C'è C'è Le sfide frecce Meno male No Ma che sfiga Che sfiga Dai forza 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 Ok No No Dai Dai Perché non ci arriva Quando lo uso io Lo uso noi altri Arriva ovunque Il domatore Eh ma vaffanculo Gioco Gioco tarocco Vai vai Scheletrini Vate fuori tutto Schreverami Scheletrini Che vabbè oddio 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 No no Dai raga manco uno Raga manco uno Ma che sfiga abbiamo Dai Cos'è No Giambù combattiamo Allora Vabbè combattiamo sta vinca è finita No 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 Giambù almeno una torre Almeno uno Almeno uno Almeno uno Almeno uno Almeno una Almeno una Sì almeno una Fa niente Fa niente raga Non difendo neanche perché abbiamo perso Però fa niente Almeno una ce la sono presa Va bene Ok ragazzi Oddio Sono stanchissimo oggi Sono appena andato a scuola Sono appena tornato Ok usciamo E raga Io concluderei Quale video Mi raccomando ragazzi Poi leccele su Commentate Condividete Iscrivete ragazzi Saluto il nostro Jambù E ringrazio per queste Amiche Bellissime Ragazzi Amiche Partite online Ragazzi Che dire Qua da l'era è tutto Ci vediamo nel prossimo video Bella rega Ragazzi Provo Apollo Fece una palla di Pelle di pollo Che tutti Lavori Non lo so Che pelle di pollo Pelle di pollo Palla di Vabbè raga Lasciamo perdere Grazie Grazie.